Sadhguru, oggigiorno a molte persone vengono diagnosticati problemi alla tiroide, sia ipertiroidismo che ipotiroidismo. Anche se consumiamo sale iodato, i problemi alla tiroide rimangono diffusi. Qual è la causa dell'aumento di questi problemi? È legato allo stress, come il diabete o l'ipertensione? Possiamo superare queste patologie col Hatha Yoga, i Kriya o stando in un luogo consacrato come l'Isha Yoga Center? Quali sono le cose che possiamo fare per uscirne? Penso che molte persone ne siano uscite praticando l'Hatha Yoga. Non c'è dubbio. Stare in un luogo consacrato decisamente contribuisce. Ma questa manifestazione parecchio estesa, di scompenso tiroideo, vedi, dobbiamo capire questo, quello che chiami tiroide. Nello Yoga non consideriamo le ghiandole così. Ma dal punto di vista medico, ciò che chiami tiroide è la secrezione dentro di te che e cerca di calibrare il tuo sistema quotidianamente. Calibra semplicemente quanta digestione deve accadere, quanta energia deve essere prodotta, quanto grasso deve essere prodotto, quanto muscolo deve essere formato, ogni cosa. Cerca di calibrare la tua struttura fisica. La tua struttura fisica è molto strettamente collegata alla tua struttura psicologica. Al giorno d'oggi ci sono sufficienti prove per dimostrarti che se ti siedi qui e pensi alla montagna, la tua funzione ghiandolare accadrà in un certo modo. Se pensi a una tigre, accadrà in un altro modo. Se pensi all'oceano, accadrà in un altro modo. Se pensi a un uomo, una donna, accadrà in un altro modo. Solo un pensiero. Niente, nessun contatto con la montagna, nessun contatto con la tigre, con l'uomo, la donna o l'oceano. Solo un pensiero farà variare la funzione ghiandolare. Sto dicendo, ecco quanto è fine il sistema che cerca di calibrare ogni cosa per mantenerti in una buona posizione. Il problema con te è che hai bisogno di un carro con i buoi, perché sei l'anello mancante. Hai bisogno di un carro con i buoi, ma ti hanno dato una bella astronave. Ogni minima cosa farà un mondo di cose. Se solo la tocchi, farà boom. Ondate di cose accadono nel sistema. Se solo guardi così e trai una conclusione sull'albero, questo produrrà molte varietà di sostanze chimiche e altri tipi di cambiamenti. Le funzioni ghiandolari cambieranno. Ovunque ti trovi, che sia a Mumbai o a New York o a Londra, ovunque, osserva semplicemente la situazione in cui cammini. Forse socialmente ti sei abituato a queste cose, ma osserva il tipo di atmosfera in cui cammini, il numero di cose che stanno accadendo. Nessuna di esse è di supporto per questa vita. Potresti essertici abituato. Forse ora non puoi più vivere fuori da quelle città. È un'altra questione. Ma la vita che sei non sta cercando quel tipo di atmosfera. Quindi il numero di variazioni che stanno accadendo dentro di te non sono a tuo favore. La disfunzione ghiandolare è solo una manifestazione. Un aspetto altamente calibrato della funzione ghiandolare. Un aspetto è la tiroide. È facilmente identificabile. Per prima cosa, i tuoi parametri fisiologici e psicologici vengono sbilanciati un po'. Semplicemente per delle alterazioni. Un'altra dimensione è qual è l'alterazione che accade dal tuo interno. I tuoi schemi psicologici. Un altro elemento di alterazione è quale tipo di cibo entra dentro di te. Non è possibile che tu mangi qualcosa oggi che non sia contaminato chimicamente. Se mangi del cibo molto biologico, sono dei prodotti chimici un po' biologici che usano. Siamo arrivati a questo punto. È molto difficile mangiare qualcosa che sia semplicemente cresciuto in una foresta selvaggia. Puoi raccogliere qualcosa e mangiarlo. È poco, davvero poco. Nemmeno una piccola percentuale di persone può ancora mangiare così. Viene tutto dal mercato. Ciò che va sul mercato è tutta una questione di più, non di che cosa. E anche questo, in questo paese, tutte queste cose sono sparite, non ti preoccupare. Mia nonna, ogni giorno il venditore di verdure, sai, un tempo venivano a casa con una cesta. Proprio la mattina stessa avevano raccolto per le sette e mezza, otto, erano davanti alla porta. Quando arrivavano, lei avrebbe guardato quando voleva comprare. Quando voleva comprare, non permetteva al venditore di toccare le verdure. Le avevano raccolte e portate. Sono fresche, appena staccate dalla pianta. Ma se dovevano essere messe sulla bilancia o ne doveva sceglierne una, due, tre, quattro, così, non gliele lasciava toccare. Non toccare le mie verdure. Questo non è per tenere lontani i batteri. Non voleva che quella donna o quell'uomo toccassero le verdure che i suoi figli e i suoi nipoti avrebbero cacciato. Le avrebbe toccate in una certa maniera. Le avrebbe coccolate, accarezzate. Le avrebbe guardate così e così. Poi le avrebbe tagliate e preparate. Non pensare che sia tutto uno scherzo. Se tutte queste cose mancano nella tua vita, devi prendere delle pillole per gestire la tua funzione ghiandolare. E non c'è verso che prendendo una pillola tu possa equilibrarla. Puoi inibirla. Non puoi davvero portarla in equilibrio. È impossibile, perché ogni giorno è diversa. Ogni momento è diversa. Questa è calibratura. Una calibratura estremamente dinamica che accade. La sopprimi e semplicemente prendi una pillola e in qualche modo te la cavi. Sei una macchina un po' disfunzionale. Con questa disfunzione, questa macchina disfunzionale, si manifesterà in così tanti modi. E lo saprai solo quando la stiri. Quando vivi con delle minime cose, non si manifesterà. Funziona così. Vedi, anche se hai una ruota bucata sulla tua macchina, a 20 km all'ora puoi guidare fino a casa, sai. Qualcosa si romperà, qualcosa andrà in pezzi, ma puoi ancora guidare. Solo se stai toccando i 200 km all'ora. Allora se si buca la gomma, allora lo sai che voli fuori strada. Quindi è tutto qui. Se tutte queste cose vengono curate bene, ora quando intensifichi la tua vita, finché funzioni a un livello molto più alto, semplicemente andrà. Ora intensifichi la tua vita senza portare quell'equilibrio. Allora vedrai. Impazzerà. Lo vedrai succedere intorno a te ogni giorno. Quindi, per investire così tanto nelle nostre vite, beh, non puoi lasciare la tua città e andare a vivere nella giungla. Puoi lasciare le atmosfere e andare via. Almeno devi attrezzarti, così che quelle cose non abbiano troppo impatto su di te avrà comunque un impatto. Ma quanto è la questione? Quanto impatto? Almeno a casa tua. Circondati di piante. Se non c'è spazio, riempi la tua stanza. Farai delle stanze da letto stravaganti. Apri metà del tetto. Oh, ma c'è un altro piano sopra, Sadguru. Va bene, aprile dannata parete, così che un po' di luce del sole venga su di te. Sì. Non tutto chiuso, è solo un condizionatore che fa brrrr tutto il tempo. Questa è una cosa. I riverberi intorno a te fanno impazzire questo corpo. Tutto il tempo brrrr. Soprattutto quando sono fuori del paese. Soprattutto negli Stati Uniti. Anche in Europa è un po' meglio. Negli Stati Uniti c'è sempre qualcosa che fa un ronzio. Senza sosta. Quando vengo qui è come, sai, semplicemente immobile. E ti rende vivo. Tutto è un ronzio. Tu sei puff. La maggioranza delle persone non ne è consapevole, ma gli succede. Il fatto stesso che dormano otto ore al giorno è proprio questo. Che non stanno vivendo nel loro habitat naturale. Stanno cercando di proteggersi dormendo. Quindi per proteggerti dalla malattia, per proteggerti dalle malattie mentali, per proteggerti da ogni genere di squilibri, dormi otto o dieci ore al giorno. Questa è metà della tua vita. Sei morto. La morte è sempre un buon rimedio. Ma non è il rimedio che cerchiamo. Cerchiamo un rimedio per la vita, non un rimedio finale. Se termini qualcosa è aggiustato. Non è così? Aggiustato o no? Aggiustato. Ma non come vogliamo. Vogliamo essere qui, vivi e pienamente aggiustati. Quindi se questo deve accadere, puoi... so che potresti sembrare strano. Anche io penserò che tu sia strano. Ma puoi portare alcune piante nel posto dove dormi. Quando cammini, devi sempre essere consapevole delle altre forme di vita oltre quella umana. La maggioranza delle persone non è nemmeno consapevole degli esseri umani. Quindi ti ricordo che devi essere consapevole di ogni cosa che è viva. Un albero, una pianta, un filo d'erba, una cavalletta che salta. E le persone che non ti piacciono, che stanno passando. Ogni tipo di cose. Devi essere vivo nei confronti di ogni cosa. Non serve fare nessun, oh amo l'albero. Non devi amare l'albero. Tu devi essere nutrito da esso. È l'unico modo di vivere. Che ti piaccia o meno, ti sta nutriendo proprio ora. Se lo fai consapevolmente, ogni cosa funzionerà meglio. Una cosa così semplice come essere vivo nei confronti di ogni cosa che ti circonda, indiscriminatamente, potrebbe regolarizzare i tuoi problemi di tiroide. Naturalmente c'è l'hata yoga del mattino. Ci sono i kriya. Tutte queste cose di sicuro aiuteranno. E gli spazi. Ci sono i potenti spazi consacrati. Molte cose. cose. Una delle ragioni principali è che gli esseri umani diventano sempre meno attivi man mano che la tecnologia si sviluppa. In un giorno, un essere umano, nella media, quanta attività, attività fisica, praticavano in passato, le generazioni precedenti di persone e quanta attività fisica pratichiamo tutti noi ora. È tremendamente bassa. Con un livello di attività così basso, mantenere l'equilibrio nel sistema è difficile. Quindi un po' di squilibrio. Non andare a letto. Se ti senti un po' sbilanciato, devi lanciarti nell'attività. Ovunque accada un'attività con del vigore e della gioia, devi buttarti in quell'attività e farne sempre di più se ti senti malato. Davvero. Perché nel momento in cui torni indietro, lo stai potenziando. Beh, se sei davvero malato, è una cosa diversa. Ma altrimenti devi... Stiamo parlando essenzialmente di disfunzione ghiandolare di varia natura. L'attività è una soluzione semplice per tutto. E non fate attività... Per voi che siete di New York, che vi dico... Non fate attività. Avete quel braccialetto della salute al polso. 10 passi. 12 passi. Non fatelo. Non è il modo di fare attività. Potreste ammalarvi di più facendo questo. Semplicemente fare qualcosa con gioia. Essere gioiosamente vivo. L'attività è... se non sai come stare seduto ed essere esuberantemente vivo. Vai a giocare. Fai un gioco. Fai una corsa. Semplicemente. Imita la cavalletta mentre cammini. Prova. Perché no? Non l'hai mai fatto? è questo il tuo problema. Adesso che andate via, voglio vedervi. Perché camminerete sull'erba. È meglio che ve ne andiate come una cavalletta. Vedrete quanta vitalità accadrà dentro di voi. essenzialmente, tu, il tuo problema fondamentale è che sei diventato dannatamente serio con la tua vita. Quindi, ancora una volta, ti dobbiamo ricordare che morirai comunque. Non essere così serio in merito. perché finirai in un attimo. Devi allentare la presa. Ora, se allenti la presa, quell'ultima scena può essere diversa. Altrimenti le persone ti vedono. Ti è successa una cosa fantastica. Hai allentato la presa. Proprio ora, se allenti la presa, vedrai la vita accadrà meravigliosamente bene per te. Grazie a tutti.